E' sempre di 0 a 0 Corner battuto, colpo di testa, Condemi il tiro! E' un bellissimo gol di Condemi! Spettacolare gol di Condemi al volo! 43esimo minuto del primo tempo Grandissimo gol di Condemi, un euro-goal definirei Gran gol di Carmelo Condemi al volo, all'incrocio dei pali Gol che se ne vedono raramente anche in Serie A